Eccoci qua giunti al capolinea di questa KL Station, la linea sopraelevata, vi mostrerò come si sviluppa la monorotaia, giusta riprova che la linea finiva qua che sono al capolinea, eccovi inquadrato, gli hanno messo anche il cartello con lo stop come per dire al vagone di fermarsi, se va avanti lì cade di sotto. Eccoci qua, vedrò adesso di utilizzare il gettone per uscire da questo posto, eccolo qua il gettone, cercheremo di andare via da qua, siamo presumibilmente alla periferia di Kuala Lumpur, questi sono edifici residenziali, sono abbandonati, probabilmente sono edifici costruiti negli anni 70 e sono stati abbandonati perché al loro posto subentreranno edifici magari più moderni, più grandi ancora. Eccoli qua, dove vivono questi qui tutti ammassati, tutti schiacciati dentro come formiche, cercheremo adesso di uscire, ma presumo che sarà semplicissimo, arrivo qui sotto e l'uscita la trovo, eccola qua, qui c'è l'uscita, mettiamo il gettone, messo il gettone il varco si apre, vuol dire che avevamo pagato il giusto importo, altrimenti saremo stati chiusi fuori. Qui abbiamo un acquario, un acquario con i pesci, questi pesci, evidentemente in caso di fame si possono prendere e mangiare. Qui abbiamo un reparto ristorazione e sotto abbiamo la città. Ecco, il mio giro adesso non è finito qui, andrò a vedere esattamente dove stanno loro a cercare un po' di amalgama tra la gente, andiamo ad esplorare, vediamo un po', cerchiamo di capire in che situazione sono messi questi qua. Eccoci qua, allora dai ci sentiamo a dopo, si scroppono qualcosa di interessante, ve lo farò vedere, ciao a tutti, ciao!